Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Per me è una grande spinta per il futuro Finale di Coppa Italia Primavera tra Torino e Fiorentina Si giocherà il Franchi Il 5 aprile alle ore 19 I prezzi variano dai 2 ai 10 euro Per assistere a un match Tutto da vivere Viareggio Cup Scontro ai ottavi tra Fiorentina e Torino Entrambe le squadre con molti assenti 10 nazionali tra le file Viola Sentimillico ed altri pezzi da 90 nel Toro Un anticipo quindi della finale di Coppa Italia Per Fiorentina1.com Valentino Allegri A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola